e adesso ce ne andiamo dove verso 200 mila dollari d'oro io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba che ingrato dopo tutte le volte che t'ho salvato la vita con quella fai prima quando si spara si spara non si parla non si parla